bello a tutti ragazzi da sapo da tre qua su minecraft xbox one restiamo in tema con l'altro episodio l'episodio scorso abbiamo fatto la farm di liane adesso riguarda trattiamo qualcosa sempre le piante o perlomeno cioè no piante ma fiori perché vorrei fare una serra una serra per piante piante fiori cioè vabbè e fiori basta qua c'era la ringhiera che andava fino avanti la fence io ho creato questo qua quindi la faremo creato questa stradina sempre in cobblestone io sono partita per la cobblestone qua dovrò chiudere qua non dovrebbero spawnare mostre venire mostre ma comunque sempre meglio chiudere e detto ciò io cosa farei io farei qui la farei laterale cioè di qua e di là in modo tale che così ci passiamo in mezzo tipo qua la facciamo larga che ne so fino qui è lunga fino qua in modo tale che ci passiamo in mezzo e mezzo abbiamo praticamente delle isole adesso devo un attimino capire come farle ma bando le ciancio ciancio levante però mi serve tanto vetro perché ragazzi le serre hanno bisogno di vetro che è qua a noi sta facendo scappologia comunque vabbè dai andiamo perché adesso messo nella fornaccia automatica tanto sa tanta sabbia cuocere tipo un 10 stack perché avevo finito il vetro ragazzi mi ricordo per cosa l'ho usato l'ultima volta forse per per ampliare la anno mi ricordo perché l'ho usato vero vero ve lo farò vedere un prossimo episodio ragazzi non correte allora io vado a prendere i materiali e andiamo iniziare i materiali in materiali in cinese e andiamo intanto questo non è perfetto e parti non parte aveva ormai con la super velocità io ci arrivo subito faccio così ragazzi e arrivo direttamente in magazzino vedete planando ok non so come farla ma vediamo se c'è qualche materiale bello carino però vabbè ragazzi fatemi decidere e poi vediamo dai ok ragazzi ho deciso la farei allora la farei in allora innanzitutto mi prendo un po di aia non ce ne sono tantissima 123 stack me li prendo non basteranno mai ovviamente io la farei in in pia ragazzi che sembra tipo cemento già la ci vorrà tanto vetro quindi facciamo così ma io mattoni me li piglio tutti tanto chi si è visto si è visto così so che dobbiamo farli ragazzi dobbiamo fare mattoni di pietra questo lo farò ovviamente off camera perché noi ho sentato le liane qua stanno crescendo mi piace un sacco vuol dire che la farm funziona e dobbiamo adesso adesso andiamo a vedere un pochettino come strutturare un po la ma porca caccia ragazzi maledetto ok siamo un giro così la quindi questo è l'ingresso di tenerci 123 blocchi che si quindi potremmo fare la prima stazione no qua anno ma questo quale stelle furbo che sono dobbiamo fare in pietra ragazzi pietra però la vorrei fare alta è vediamo un po anzi io direi di farla tipo ad arco è che dopo scalini in pietra esistono sì no no non sono sicuro però allora dobbiamo farla tipo tipo più larga partiamo da qua e buongiorno se non ci vado sopra come faccio a piazzarla diciamo 1 2 3 4 5 6 7 8 ottimo abbastanza ci dai e poi che ne so andiamo su a così così ma porca caccia allora come viene fuori se io facessi vediamo un po se io devo fare così poi ovviamente qua c'è il contorno così poi quasi va su fai diva di qua così direi che possiamo arrivare fino qui nell'angolo arrivare fino qui nell'angolo arrivare fino qua vediamo farla uguale così 8 1 2 3 4 5 6 7 8 poi diamo su a zig zag così e non cadere così vediamo un po come viene così e magari qua dovremmo essere sopra il primo blocco è fatta che prendo un po di misure poi far vediamo e quindi diciamo che ecco adesso vabbè no vero mi manca perché devo finire questo mannaggia mannaggia devo fare anche in mezzo è vero allora queste sono le mie scale vabbè che posso fare in cobblestone allora dobbiamo farla speculare speculare buongiorno che ce la facciamo ragazzi allora e non ce la faremo mai troppo poca e niente vado a riprendermela e la finisco mi vado a prendere uno stack dovrei farcela vediamo un po si dai uno stack dovrebbe bastarmi dai come qua di ritorno uno stack l'abbiamo presa adesso dobbiamo solamente fare la stessa cosa che abbiamo fatto di qua lo facciamo di là così tac se è giusto così sì 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 è tutto giusto e ci vuole una struttura di rinforzano così e così facciamo a metano ma con questa qua andiamo su fino in cima è andiamo su fino in cima è perché hanno ancora uno detto guarda che comodo tac tac qui e saliamo su così anche qua dopo la spacchiamo ben quella sotto ancora una no una va di qua così siamo al centro ok perfetto adesso ragazzi io hanno manco una cosa faccio dall'altra parte qui lascio così si non cadere e dunque 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 caspita era che andava ma va bene approfitto per rompere sti blocchi qua che sono quelli in più quello la col cavolo che ce lo faccio allora bo io finisco qua tutto e poi finiamo andiamo diciamo finiamo la struttura almeno dai dai che sono gli ultimi quando messi due vabbè bene sono avanzato addirittura 44 ragazzi ragazzi spaccamo sotto spaccamo sotto ragazzi dovrebbe essere giusto questo si poi andiamo su di qua usiamo la rampa ok ma quale devo spacca questo questo si quello lì giusto no perché ogni tanto faccio delle cavolate ok quindi in teoria la struttura togliamo via le scale e mangiamo soprattutto la struttura dovrebbe essere no che caspita ti ha detto allora la struttura dovrebbe essere finalmente diciamo pronta manca solo il vetro ovviamente la serra in inglese si dice green house quindi casa verde noi la cosa possiamo fare ci mettiamo tutto il vetro verde per quello ne ho fatto un disastro dai vola 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 più veloce così via a ok qua stanno ancora andando e che ho preso danno da solo fermati avesse baggata o questo mi piace prendiamoci un po di vetro lo andiamo colorare di verde che vedo in pari si fa con la polvere di quel cactus ma non ho nessunissimo problema a farlo perché tanto allora innanzitutto andiamo quasi al liceo rettore a buttare le monnezze la monnezza che sono tre blocchi di terra e poi possiamo buttarvi anche questi quadri cabaston che ne ho un macello e andiamo adesso a prendere i coloranti sono l'unica cosa che rimasta in casa praticamente coloranti verdi ne ho verde cactus ne uno stack speriamo che ci basti vetro verde si via famo ragazzi guardate quanti stack sto facendo ok vediamo se ci bastano questi stack dai io vado a mettere diciamo adesso li vado a mettere tutti dai facciamoci un volo come cavolo fatto saltare così preciso andiamo sopra la casa dei sip sono sopra gli studi televisivi anzi così vi faccio vedere il tetto com'è vi piace è tutto in in questa roba quali in lastre di pietra così non spawnano mostri in più ho dovuto mettere questa ringhiera qua perché altrimenti eravamo fra e quindi io direi via questo mettiamo questo qua questo qua via mettiamo questo qua ancora questo e siamo a posto bene io inizio a piazzare tutto il vetro sperando che c'è basta ma se non c'è basta c'è basta sicuramente perfetto così così non cadiamo anzi inizierei da no da sopra no è una bruttissima idea tra l'altro sta cominciando a far buio ragazzi io vado a dormire e poi continuo finisco di piazzare il vetro vediamo se mi basta ma sì che mi basta poi cactus comunque ne ho non ho problemi per il colore verde quindi vedete che ho fatto bene a mettere il doppio spazio centrale così non cado giù ogni volta comunque qua non serve comunque ci sta un attimo vedete è via uno stack sì dai dai che ce la facciamo ragazzi mi sento ottimista ecco però inizio l'ottimismo se ne va anche un po a farsi benedire come si dice ok io potrei metterlo piazzarlo così così non cado perfetto stessa cosa al contrario e va bene così perfetto boh io me la finisco anzi vado a dormire poi ragazzi finiamo finalmente sta cavolo di serra di green house bene eccoci qua l'ultima finestra da chiudere diciamo finalmente caspiterina ragazzi è tipo sembra di no ecco finito un altro stack ma sono tipo due ore che vado avanti questa roba qua è che tra l'altro l'ho fatta all'inizio sbagliata e così abbiamo concluso quanto consuma e caspita non so quante ne avevo quindi uno due tre quattro cinque sei stack sette otto stack ho consumato eh sì ne ho presi dieci eh sì ragazzi sti cavoli otto stack sono un mucchio di blocchi non tantissimi ma sono tanti comunque bene ragazzuoli io adesso purtroppo mi tocca concludere qua perché fare sta struttura mi ha preso più tempo di quello che speravo anche se sembra semplicissima però diciamo buh però mi è venuta un'altra idea di abbellimento ve la farò vedere nell'inizio del prossimo gameplay ragazzi noi ci sentiamo sempre sempre se volete essere salutati scrivetemi un commento io vi ringrazio e vi saluto ciao a tutti ragazzi